Sagittario è Sagitta, la freccia che si lancia verso l'infinito, verso il lontano, che ha dentro di sé però l'energia che deriva da una fiducia nel divino, da una fiducia riposta in qualcosa d'altro, di altrove e anche di alto, che protegge. Il Sagittario si muove con una sicumera quando non scade nelle versioni più ipocondriache, che però comunque dentro di sé sanno che ce la faranno. Ecco, il Sagittario ha la certezza intima, anche non necessariamente razionalizzata dichiarata, che arriverà a destinazione. È un po' come la freccia di Atena che ovunque lanciasse le sue frecce, comunque colpiva un bersaglio. Ecco, il Sagittario, l'energia sagittariana è questa propensione verso il lontano, questo desiderio di esplorare, questo desiderio di andare, questo desiderio di conoscere e questo desiderio anche di insegnare. Quando arriva Plutone il Sagittario, che è una forma di fuoco molto cosciente e anche capace di non infiammarsi subito e di stare come una fiammella blu vicino al suo spirito, ecco, quando arriva Plutone il Sagittario esplode. Il Sagittario si trova anche diviso fra questa sua dimensione che è metà cavallo e metà uomo. Certamente Plutone spinge ed enfatizza la metà bassa del centauro o dell'amazone. Ecco che l'energia plutonica risveglia e accende il desiderio, che non è necessariamente solo un desiderio intellettuale, ma quando parliamo di Sagittario parliamo anche di un desiderio del corpo che diventa esplorazione del corpo, esplorazione di un territorio, conquista, avventura e allora a questo punto il Sagittario dovrà dare un senso e una direzione a questi impulsi senza farsi travolgere dal loro essere nuovi, dal loro essere pieni di entusiasmo e dal loro essere a volte anche impossibili. Sappiamo che al Sagittario piace la sfida verso l'impossibile. Ecco sarà molto importante che questa nuova energia, questo nuovo impulso sia riempito di senso e di direzioni che accompagnino poi un'azione prolifica e realizzante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.